120 romani indagati nel terremoto di Amatrice e residente Falze per incassare i contributi. L'ennesima pagina, triste, di questo teatro la scrive oggi il messaggero con un articolo a firma di Italo Carmignani. Mentre la procura di Rieti vuole vederci chiaro sui 33 milioni di euro donati dagli italiani attraverso gli SMS solidali, dopo la denuncia del sindaco Sergio Pirozzi, escono nuovi particolari sulla vicenda. 28 milioni di euro sono stati già assegnati in realtà in base a 18 progetti presentati. 5 milioni sono ancora da assegnare. L'articolo sostanzialmente smentisce il sindaco di Amatrice. È vero, nessun fondo è arrivato nelle casse di Amatrice d'accumuli, ma la destinazione dei soldi fu decisa lo scorso 5 luglio in una riunione in cui era stato invitato anche Pirozzi, scrive il quotidiano, con protezione civile, sindaci, garanti e governatori del cratere. 18 milioni nelle Marche, 3,6 in Umbria, 3,5 nel Lazio, 3 milioni in Abruzzo, totale insomma 28 milioni. Nessun milione di euro, come già aveva detto la protezione civile nazionale, è sparito. Obiettivi dei progetti? Scuole e beni culturali. Pirozzi intanto ieri è stato sentito dalla procura di Rieti come persona informata dei fatti. Tra i progetti finanziati c'è anche una scuola di Colle Vecchio a Rieti e un pezzo di pista ciclabile a Civitanova Marche. Questo in particolare aveva fatto infuriare il primo cittadino di Amatrice, la pista ciclabile. E mentre tutto passa, i soliti furbi, indagati appunto per aver presentato residenze false e incassare i contributi del terremoto, accadde anche un anno fa, quando una quindicina di persone furono scoperte e scritte nel registro degli indagati. Le stesse che gridano governo ladro, anche questo però è rubare.